La posizione di Baxi non può che mettere in allarme tutta l'azienda e tutto il Bassanese. A dirlo lanciando l'allarme sono i sindacati che con una nota emessa nelle scorse ore hanno puntato il dito contro la scelta di Baxi di mettere alle strette la politica cittadina sul domino che parte dall'ex IAR e arriva a San Lazzaro. In sostanza se Pengo si sposterà nelle campagne a sud del centro si libereranno spazi nei capannoni a ridosso della Baxi che potrà così ampliare le proprie linee per la prossima generazione di caldaie. In caso contrario l'azienda ha fatto sapere che c'è il rischio fortissimo di una delocalizzazione con la perdita di almeno 700 posti di lavoro. Quest'ultima informazione ha fatto saltare sulla sedia lavoratori e sindacati che hanno richiesto un incontro immediato con l'amministratore delegato. Ci dispiace ma questo è sostanzialmente un colpo basso, lo strappo va ricucito e le organizzazioni sindacali, gli attori che sono coinvolti in questo processo devono essere informati per tempo e prima di fare questo genere di dichiarazioni che magari sono in parte provocatori. La posizione di Baxi in questa vicenda viene definita da molti come una provocazione dato che i tempi posti all'attenzione della politica cittadina sono strettissimi. Per altri invece si tratta di un ricatto occupazionale. Penso che io mi auguro che sia una provocazione per spingere e fare in modo di stringere i tempi. Io spero che non sia un ricatto, io mi riservo di fare eventuali altre dichiarazioni dopo l'incontro che avremo con la proprietà. Per i sindacati il tema fondamentale è trovare una strada, una mediazione, salvaguardare l'ambiente e la campagna ma anche i posti di lavoro. Insomma quella strategia a medio e lungo termine che secondo molti bassanesi è mancata in seno all'amministrazione Pavano. Penso che le parti sociali, la dico in battuta, in casi come questi dovrebbero sedersi dentro ad una stanza per dieci ore, dieci giorni, quel che serve è uscire con una mediazione. Io credo che non può esserci o A o B. Entrambe le parti vanno salvaguardate. Ora io voglio salvaguardare l'aspetto dell'ambiente e voglio salvaguardare 900 famiglie che vivono sul territorio e non posso pensare o una o l'altra. Entrambe le parti perderanno qualcosa probabilmente ma il valore del bene comune è maggiore. È un costo garantire il valore del bene comune? Sì, e vabbè qualcuno lo deve tirare fuori questo costo.